Hai deciso di sposarti e stai cercando una location dove ospitare i tuoi invitati? A 300 metri dal Circo Massimo di Roma, in via di San Teodoro 48, si trova il Colbe Hotel Roma, che ha già avuto modo di fare da scenario a centinaia di matrimoni. Le coppie di sposi che lo scelgono lo fanno perché è a 100 metri dalla famosa chiesa San Giorgio Alve Labro, oppure perché si trova a circa 600 metri dal Campidoglio, o anche per la vicinanza con la sinagoga, il Tempio Maggiore di Roma. Il Giardino del Colbe può ospitare fino a 200 persone e grazie alla presenza del rinomato ristorante Unique al Palatino all'interno della struttura, è possibile servire delle pietanze di alta qualità, ottimizzando quanto più possibile il costo per persone. Il Colbe Hotel Roma, inoltre, ha una terrazza panoramica che può essere allestita per l'occasione, che da un lato mostra le bellezze della città eterna e dall'altro il Palatino. Se hai già scelto la data del tuo matrimonio, vogliamo invitarti a visitare la nostra struttura e a provare il ristorante Unique al Palatino. Grazie per l'attenzione e a presto!